Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui in un altro angolo della clausura tra questi lunghi corridoi, questi luoghi che hanno visto la presenza di Padre Pio. E oggi con il libro Padre Pio ci ruba i figli di Padre Alessandro Dari Pabottoni, un libro che racconta e raccoglie le testimonianze dei tanti piccoli fratini che erano qui, vivevano con Padre Pio, il loro direttore spirituale, in tanti che volevano intraprendere questo cammino vocazionale nella famiglia di Francesco D'Assisi e allo stesso tempo anche diventare sacerdoti. Un padre della Fraternità di San Giovanni Rotondo rivolse la domanda a Padre Pio. Padre, sono in procinto di partenza per il santo noviziato dei collegiali, saranno tutti religiosi o sacerdoti? Padre Pio con l'espressione di un'amarezza visibile proprio sul suo volto rispose No, due soli saranno religiosi e sacerdoti. Tutti vestirono l'abito cappuccino, ma non tutti arrivarono al sacerdozio, chi andò via dal noviziato e chi dallo studentato. Allora più che mai gli era vicino, cercava di illuminarlo, di aiutarlo, di salvarlo, di condurlo sulla retta via. Si notava sul volto l'intima sofferenza del cuore quando un collegiale andava via oppure veniva escluso dal seminario. Uno che non continuò, quindi uscì, però ha comunque voluto raccontare la sua testimonianza, lo ricorda affabile, sorridente, riceveva tutti con benevolenza. Quando era brusco, a volte, è perché notava nel volto di questo ragazzo il peccato, la curiosità superficiale. Tutti coloro che venivano rimproverati ritornavano di nuovo a confessarsi. Io ho visto, scrive un altro studente, ho visto in Padre Pio un religioso che si è immedesimato nel sacrificio della Santa Messa. Allora vogliamo raccontarvi anche quello che è accaduto ad un ragazzo che poi ha continuato ed è riuscito ad arrivare al sacerdozio. Racconta che seguiva i suoi ragazzi, anche i venuti meno, come poteva, con la parola viva e con la parola scritta. Ed essi restarono sempre affezionati al loro padre spirituale, si impegnavano a vivere nel secolo da buoni cristiani. 1917, gli aspiranti al Collegio Serafico di San Giovanni Rotondo erano 14. Una ricreazione è rimasta in modo speciale nella mia memoria, racconta questo frate Cappuccino. In un giorno di maggio-giugno di questo anno, 1917, mentre passeggiavamo nell'orto del convento, padre Pio e noi collegiali, il padre spirituale parlava in un modo sibillino, in tono scherzoso ma allo stesso tempo anche oscuro, dicendo però qualcosa di molto serio. Riguardo a coloro che dovevano partire per il noviziato, stava dicendo chi sarebbe arrivato al sacerdozio e chi no. A mano a mano andammo nella stanzetta di padre Pio, nostro padre spirituale, e la conclusione di quel parlare oscuro fu che sei sarebbero arrivati al sacerdozio, sei no, due sarebbero morti. E così fu, dalla viva voce del fratino del 1917, incluso tra le arrivate al sacerdozio, padre Alberto Vapolito.